No, ero emozionato, il gol dell'ex è sempre bello. Ovviamente mi sono emozionato per delle dinamiche che ci sono state dietro, tutte le trattative, che va oltre il gol. No, vabbè, ma noi ci aspettavamo che l'Avellino partiva forte. È normale che con una squadra abbrasonata come l'Avellino ci sta in delle dinamiche e parti delle partite soffrire, ma sono felice perché abbiamo reagito molto bene come squadra. Sinceramente non lo so cosa che non ha funzionato ad Avellino, ci sono delle dinamiche che vanno oltre il calcio. Per quanto riguarda la mia condizione fisica, grazie al mister Modica che mi ha fatto migliorare molto fisicamente, ho perso la bellezza di 7-8 kg e adesso mi sento molto bene, anche se non sono ancora al 100%, però spero di esserlo a breve.